Intanto rientra in un ambito di emergenza che riguarda l'intera isola. Noi terremo di concerto con la regione, la cabina di regia e tutti gli enti interessati, compresi i comuni, un ulteriore incontro il prossimo 9 luglio in cui aggiorneremo quello che è lo Stato sul territorio. Al momento risulta che il sindaco di Trapani sta ponendo in essere anche alla luce dei finanziamenti ricevuti dalla regione taluni interventi, quindi siamo accanto alle amministrazioni e di concerto con la regione cercheremo di capire bene qual è lo Stato della... proseguiamo, per meglio dire, il nostro compito di supporto alle amministrazioni comunali.